Quasi 100.000 visitatori nell'arco di 5 giorni, 15 padiglioni occupati da 633 aziende, 245 espositori a esseri presenti e 27 paesi rappresentati. Questi alcuni numeri della quarantesima edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredo Bagno, ospitato da Bologna a Fiere e giunto a termine venerdì scorso. Nello specifico le presenze totali in Fiera durante i 5 giorni sono state 99.319, dato in crescita dell'8,8% rispetto all'edizione precedente. In un contesto di mercato che rimane difficilissimo, la Fiera ha mostrato tanta energia e soprattutto tanta capacità di attirare visitatori internazionali. Questo è dovuto agli investimenti delle aziende che continuano a credere all'iniziativa fieristica e alla capacità di una fiera fatta sul territorio di attirare così tanti visitatori. La difficoltà di passare tra i corridoi degli stand è un premio per i nostri investitori, per la qualità dei prodotti e anche per le tante iniziative che sono state messe in atto come organizzazione per supportare questi investimenti. Anche nelle nostre manifestazioni, incontri, costruire, abitare e pensare, come quello con Mario Coruscinella per la presentazione del padiglione all'Expo del 2025 a Osaka. Abbiamo registrato il tutto esaurito e questi sono segni di vitalità molto importanti. Una buona risposta a quella arrivata dalla fiera, ma sullo sfondo rimane un mercato complicato, con un 2023 che nel primo semestre ha fatto registrare un rallentamento delle vendite. Il mercato resta difficilissimo e gli esiti anche positivi della fiera sicuramente non sono l'andamento del mercato e la congiuntura. Il contesto internazionale è stato ben descritto in tutte le sue complessità dal professor Prodi nel convegno inaugurale. Però senza dubbio è molto meno male che ci sia stata una fiera così positiva, perché vuol dire che il contatto diretto con i clienti, in relazione di business, che quando le condizioni permetteranno potranno concretizzarsi anche in ordinativi. Se non ci fosse la fiera del Cersaie costruita dalle aziende italiane, che è arrivata al suo quarantesimo anno di vita, questa possibilità non ci sarebbe. Sarebbe una partita durissima, le competizioni internazionali dovremmo giocare fuori casa.